Continua la crescita record delle esportazioni dei vini pugliesi, che nel 2017 hanno segnato un più 21,5% rispetto all'anno precedente. Secondo le elaborazioni di Coldiretti Puglia, su dati Istat, è un valore complessivo di 149 milioni di euro. Di pari passo aumenta la produzione biologica di uve. Il primitivo pugliese, con un aumento del più 21%, è al secondo posto in Italia della classifica dei vini, che hanno avuto il maggior incremento nelle bottiglie acquistate nel 2017. Determinante il ruolo del settore vitivinicolo per l'economia e il lavoro nel mezzogiorno e in Puglia, commenta il presidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele, che vede la provincia di Foggia al secondo posto in Italia per ore di lavoro create nel settore del vino e al decimo posto della top ten anche un altro vitigno pugliese, il Castel del Monte Doc. Il regolamento comunitario per la produzione di vino biologico rappresenta un passo in avanti importante per uno sviluppo adeguato del settore, ha sottolineato il presidente della Coldiretti Puglia. Finalmente, grazie al fatto che le norme disciplinano l'intero processo enologico e non solo la fase di coltivazione in campo delle uve bio, si può etichettare il vino come biologico e non più come ottenuto da uve biologiche.